Sempre nella rubrica dei video messaggi d'amore, questa sera vi voglio presentare una ragazza, si chiama Manuela Manuela ha avuto purtroppo una storia d'amore che è finita a Maluccio e si è rivolta a noi per fare un video messaggio d'amore a questo ragazzo Ciao Manuela Ciao Quanti anni c'hai? 34 Di dove sei? Sono di Frossinone però abito qui a Cefalù Ha molto tempo che abiti a Cefalù? Sono 4 anni Ascoltami, ha molto tempo che ti sei lasciata con questo ragazzo? Circa un mese Da un mesetto quindi? No E il motivo perché ti sei lasciata? Puoi dircelo? Perché lui non ha capito ancora bene che sono io la donna della sua vita Come si chiama questo ragazzo? Sandrino Quanti anni c'hai Sandrino? Ne ha 28 Quindi è più piccolino di te? Eh sì però non fa niente, non è un problema Com'è che hai sbocciato l'amore? Allora ci siamo conosciuti per uno sbaglio telefonico Poi pensa che io scherzando ho chiesto quali caratteristiche cercava in una donna E lui mi ha detto che il suo sogno era di incontrare una donna con i capelli rossi e gli occhi chiari Capelli rossi e occhi verdi? Occhi chiari in generale e non c'eravamo mai visti né tantomeno incontrati in giro per strada Poi vi siete conosciuti? Poi ci siamo visti ed è scoccata la scintilla Ed è nato il colpo di fulmine Quanto tempo siete rimasti insieme? Siamo stati insieme un paio di mesi E poi lui si è un po' impaurito, è scappato e vorrei... Tu invece praticamente hai preso una cotta? Io vorrei farlo riflettere almeno Sei ancora innamorata di lui? Sì un po' Va bene, ok Emanuela Allora noi oggi di Soranamore Siciliano ti diamo la possibilità di fare questo videomessaggio Nella speranza che lui possa vedere la nostra trasmissione e ritornare da te, ok? Lì c'è la telecamera Da adesso in poi puoi effettuare il tuo videomessaggio d'amore Di a lui praticamente quello che provi come se lui fosse di fronte a te, ok Emanuela? Vai Allora Sandrino lo so che sto facendo una pazzia Però vorrei farti riflettere sul nostro incontro Ricordarti che nella vita nulla succede per caso E se ci siamo incontrati per sbaglio, conosciuti, per un errore, quello che sia Un motivo ci deve essere Quindi tu rifletti, sai chi sono io E sai che siamo fatti l'uno per l'altro Aspetta una tua risposta, un tuo messaggio E vedremo se questo strano amore siciliano funzionerà Ok, bene amici abbiamo sentito il videomessaggio d'amore di Emanuela 34 anni che è fatto per Sandrino Ma speriamo che Sandrino veda la trasmissione e si faccia avanti, ok? In bocca al lupo allora a Emanuela Ciao da Alberto e ciao anche da... Da Emanuela Ciao amici, a dopo Ciao amici abbiamo Oh yeah Ciao amici abbiamo